salve a tutti sono ancora a burgasco perché perché mi sono accorto che io anche ho delle domande sul perché è stato previsto questo impianto soffitto in questa abitazione sul perché è stato previsto l'impianto a secco al piano terra perché mi ricordavo che già l'altra volta ero curioso perché non essendo esperto di involucro di biodilizia non sapevo che cosa fosse questo scoperto essere calce canapulo in realtà questa è solamente canapa è miscelata con dei gradi diversi per diventare più polverosa oppure più rigida per le pareti per i mattoni e ne avevo parlato con l'architettore responsabile di questo cantiere e qua ho la progettazione quindi ho l'impianto a soffitto gli schemi dell'impianto a soffitto qua c'è il fornitore e qua cosa abbiamo Simone Andreis l'architetto quindi anche stavolta direi di teletrasportarci a Torino per fare due domande due parole con il progettista responsabile di questa riqualificazione quindi non perdiamo altro tempo metti mi piace e cominciamo rieccoci con l'architetto Simone di GreenThink architetto responsabile della progettazione del cantiere di Buriasco abbiamo già documentato in alcuni video l'andamento del cantiere ventilazione meccanica nel video più recente abbiamo parlato dell'involucro quindi della scelta di materiali in bioedilizia per questo cantiere e oggi sono nuovamente con Simone per parlare della scelta invece impiantistica nel senso che per l'impianto di riscaldamento raffrescamento è stato scelto come già accennato nel video un sistema di riscaldamento a pavimento è a soffitto a secco che si abbinerà all'aggregato compatto della Sibel Eltron che ovviamente vi ho già documentato ma che vi documenterò durante l'installazione che è un prodotto che permette di fare riscaldamento raffrescamento acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica tutto nella stessa macchina senza netta esterna quindi tutto in centrale termica domanda subito al brucio che cos'è questo come 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 composto quali sono le caratteristiche e perché abbiamo questi tubi ondulati rispetto al classico impianto a pavimento che standard nel senso con le classiche chiocciole con le stesse distanze questo è un pannello in gesso fibra fresato con le serpentine che passano al suo al suo interno lo suo prodotto un prodotto un po particolare e la sua applicazione in alcuni nostri lavori nasce dall'esigenza anche qua di utilizzare dei sistemi radianti pannelli radianti ma che appunto siano composti da materiali anche qua proprio di origine naturale o comunque biocompatibili quindi cercando di escludere l'impiego di materassini con le ps materiale sintetico esattamente trovato un prodotto che abbia risponde alle nostre esigenze questo prodotto qua ha varie applicazioni può essere applicata pavimento a parete oppure a soffitto nasce già con una fresatura in realtà viene progettato la parete o comunque la superficie radiante sulla base chiaramente dei carichi termici viene progettato e quindi vengono progettati tot pannelli da posizionare vengono fresati con il passo necessario a coprire le esigenze fabbisogni che di cui abbiamo bisogno nei carichi termici e viene applicato come un normale pannello in cartongesso ovviamente privo delle sue serpentine serpentine vengono poi inserite una volta che abbiamo come dire tutto il disegno di serpentine fresate infatti nel concreto poi vi documenterò se non vuoi perderti l'installazione di questa tipologia di impianto iscriviti al canale ovviamente attiva le campanelle ma sono cose che già dovreste sapere andremo a posizionare questi pannelli in cartongesso poi passeremo noi da parte della parte impiantistica per la posa delle tubazioni che ovviamente i vari pannelli andranno ad aggiuntarsi in effetto puzzle e io dovrò andare a posizionare i tubi giusto sì sono tubi che sono comunque da un diametro ridotto in tutta una questione poi di calcoli di carichi termici questo disegno ondulato è fatto per anche rendere più uniforme possibile come dire il calore all'interno del del pannello e quindi poi anche la percezione è molto più come dire distribuita questo pannello qua può essere utilizzato a pavimento chiaramente applicando lo suo materassino isolante un po come i pannelli bugnati nei pièces a cui siamo abituati sotto nel loro spessore di isolante e può essere finito pavimento direttamente con la piastrella sopra in una soluzione a parete o a soffitto può essere completato con un secondo pannello in gesso fibra oppure un pannello in argilla e così via quindi con finiture differenti quello che caratterizza questa tipologia di sistema radiante che appunto reputiamo valido in taloni cantieri o meglio in taloni progetti in altri magari per caratteristiche del progetto stesso magari funziona meglio un altro prodotto questo caso qua ha una buona risposta nel senso che una bassa inerzia termica nel senso che immaginandolo a pavimento come nel caso di buriasco andando ad applicarci sopra direttamente una piastrella significa che dal momento in cui noi accendiamo il riscaldamento in casa la risposta in termini di tempo di ore è molto veloce quindi l'ambiente viene riscaldato più velocemente in casi in cui come buriasco non abbiamo altre forme di riscaldamento può essere vantaggioso soprattutto nelle mezze stagioni quando sempre più siamo abituati per i cambiamenti climatici ad avere anche magari in periodi più caldi delle giornate di molto umide e fredde avere un sistema con una risposta molto veloce significa che io accendo e subito va in temperatura la casa avessimo invece magari un sistema classico con un massetto sopra significherebbe che prima che accendo il riscaldamento mi vado in temperatura la casa magari passa già mezza giornata e magari giorno dopo torna a splendere il sole diciamo che quello che ho già dato come alcuni input può essere che l'inerzia deve essere tanto più bassa quanto più isolata l'abitazione nel senso che in un'abitazione come quella di buriasco visto anche l'involucro molto performante avere un sistema che permette di gestire regolarsi in maniera molto più precisa perché un sistema con inerzia c'è il rischio di arrivare anche a soluzioni di surriscaldamento non la classica giornata invernale molto soleggiata potrebbe generare questi questi piccoli disagi e volevo fare un piccolo approfondimento sul fatto che in questa abitazione qua la progettazione la tua progettazione del tuo studio del tuo team è stata una progettazione legata a delle considerazioni di comfort a 360 gradi nel senso che non si è concentrati solo sul risparmio economico sul meno risparmio economico perché sicuramente un sistema di questo tipo una riqualificazione che vi stiamo documentando ha dei costi importanti inutile non nasconderlo ma c'è stata una valutazione del comfort sia dal punto di vista di comfort respiratorio quindi comfort dell'ambiente indoor comfort anche radiante perché avendo un involucro totalmente performante dal punto di vista termico con delle temperature superficiali che necessariamente saranno tendentemente più alte perché tra i materiali isolanti tra riscaldamento soffitto c'è un pochettino quello che il principio del riscaldamento soffitto non la classica il classico dubbio la classica perplessità è se il calore va verso l'alto riscaldamento soffitto come fa a riscaldarmi come faccio a stare bene quindi si tratta di conoscere quelle che sono le condizioni di comfort comfort termico legato anche a quelle che sono le superfici radianti volevo un tuo commento su questo aspetto qua su quanto è importante conoscere o comunque progettare in funzione del comfort del cliente non comfort del cliente e caratteristiche dell'edificio ovviamente perché già nell'altro video abbiamo affrontato l'argomento del calcio canapulo come materiale idoneo per motivi anche di leggerezza nell'ottica di un sisma bonus però l'evalutazione è che un impianto soffitto per esempio risulta comunque confortevole se non più confortevole rispetto ad altri ad altri sistemi ogni caso la sua specificità e questo è fondamentale la visione è sempre quella di una progettazione alistica che significa che è una progettazione che tiene conto 360 gradi di vari aspetti sia di vincoli appunto anche banalmente edilizi quelle che sono le esigenze e l'utilizzo che farà della casa come dire l'utenza finale e quelle che sono le caratteristiche già dell'oggetto su cui andiamo ad intervenire e questo chiaramente è un aspetto fondamentale nel caso specifico di buriasco possiamo dire che è stato applicato questo pannello a pavimento al piano terreno per un motivo banale c'era un soffitto a voltini è stato mantenuto questo soffitto a a voltini al piano primo invece è stato applicato a soffitto perché nelle camere da letto si è reputato che applicarlo a pavimento visto anche l'ingombro dei mobili che ci sarebbero stati e così via la superficie effettivamente radiante a contatto poi con il corpo sarebbe risultata come dire minimizzata quindi la visione è sempre di trovare delle soluzioni che analizzino tutti gli aspetti 360 gradi ma anche che riescono a massimizzarsi l'una con l'altra faccio un esempio pratico un tipo di riscaldamento di tipo radiante rispetto magari a scaldare l'aria è un tipo di riscaldamento che si sposa molto bene quando abbiamo delle stratigrafie delle strutture che sono molto massicce nel caso di ristrutturazioni abbiamo spesso ci troviamo spesso con questa situazione di muri magari in pietra o in mattone di cascinali vecchi che hanno molta massa e che quando si trovano ad interagire con un pannello radiante a loro volta accumulano del calore e funzionano proprio come se fossero delle batterie di calore e quindi si massimizza questo questo concetto in questo caso qua oltretutto la scelta del di utilizzare un supporto ingesso fibra ingesso fibra un altro materiale composto appunto da gesso e fibra di cellulosa senza alcuna aggiunta di materiali come dire in qualche modo nocivi ed è un materiale per esempio che un po' analogamente all'argilla ha una grossa capacità di una grossa capacità igroscopica di immagazzinare appunto umidità presente negli ambienti e poi invece di rilasciarla quando l'ambiente secco quindi in qualche modo funziona da naturale regolatore del dell'aria indoor soprattutto sotto un profilo di umidità domanda che nell'altro video non ti ho fatto relativo al fatto della committenza nel senso il cliente finale quanto è stato lui a cercare questi prodotti sicuramente affidandosi a uno studio come il tuo c'è già una scelta traprendere un percorso di ristrutturazione di riqualificazione sostenibile non solo a livello economico non solo sulla carta non solo nel post ma anche nel preme cioè in quella che è tutta la filiera produttiva dei prodotti della sobrietà degli ambienti quanto c'è della committenza e quanto c'è del professionista perché c'è sempre questo dualismo che trovo spesso nei vari commenti che mi arrivano eccetera del cliente che vuole fare il progettista che invece rema contro oppure il cliente che vuole esempio eliminare il gas il progettista che dice no io non mi fido e quindi vado in quest'ottica qua su una situazione possiamo definirla innovativa perché non sono tantissimi che hanno la preparazione banalmente io sono qua da te perché perché per quanto io possa avere una formazione ingegneristica per quel che riguarda la parte impiantistica c'è tutta una cultura legata alla sostenibilità dei materiali della bioedilizia c'è tutto un mondo della bioedilizia quanto c'è stato da parte tua di progettista nel proporre prodotti sostenibili e quanto invece della committenza è arrivato un feedback del tipo no no ma io voglio una casa sostenibile più o meno come è stato l'equilibrio ci cerca e perché già entra in quest'ottica qua di voler investire fare un investimento generalmente la casa investimento della vita investire sulla qualità della propria abitazione e quindi sotto un profilo anche soprattutto di diciamo in termini di salubrità e questo per noi fondamentale le condizioni sine qua non di qualsiasi tipo di lavoro e come dire collaborazione dico sempre che tanto alla fine il lavoro è un lavoro di squadra i tandem dove ci sono vari attori e noi siamo la progettazione siamo un pezzo e possiamo portare tutto quello con contributo di carattere con dire conoscitivo di materiali di anche dire casistiche caratteristiche dei materiali pure no è anche di maestranze che poi siano in grado di lavorare questi questi materiali tuttavia è chiaro che è un percorso di scoperta e di crescita anche per noi perché ogni progetto ci permette di metterci in gioco di lavorare su nuove sui nuovi orizzonti nuovi materiali conoscere cose anche nuovi nuovi aspetti però un percorso dove uno come dire si può far trascinare coinvolgere a seconda chiaramente delle proprie esigenze della propria sensibilità ogni progetto è differente deve essere ricamato sulla base di quello che l'utenza finale assolutamente quindi diciamo che è un percorso di scoperta conoscitivo e che quindi deve essere chiaramente condiviso ecco e sta poi a sensibilità di ognuno arrivare magari fino a un certo punto o ad un altro più avanti capire magari l'ho raggiunto che un materiale piuttosto che un altro chiaramente ci confrontiamo sempre con quelli che sono i vari vincoli tra cui chiaramente anche il budget e quindi sta a noi riuscire a trovare la soluzione che riesca a mettere assieme le varie soluzioni in modo da massimizzare quelle che sono le capacità di e le possibilità di ognuno e di ogni specificità dietro una progettazione ci deve essere comunque un dialogo costante con la committenza con il cliente l'importante come dico sempre e conosce quello che offre il mercato sapere che esistono queste soluzioni perché tanta gente preso ma anche tanti tre di voi che guarderanno questo video non sanno tutta che tutta questa scienza ok questa questa branca dell'architettura sostenibile che se uno voglia di studiare di impazzire di materiale ce n'è ce n'è in abbondanza per oggi è tutto quindi abbiamo fatto questo discorso teorico sulla parte sulla parte impiantistica quindi pavimento e soffitto che andremo a realizzare sicuramente nel cantiere che vi documenterò come già anticipato per qualsiasi dubbio domanda o propresità sotto nei commenti sotto in descrizione vi lascio poi tutti i riferimenti dello studio GreenThink per quel che riguarda la progettazione a casa di biodilizia questo è il vostro il vostro settore se volete qualsiasi informazione tartassateli pure fatemi sapere se vi interessano argomenti legati alla biodilizia quindi a questa branca della della riqualificazione della progettazione perché c'è da c'è da impazzire grazie Simone nuovamente per l'ospitalità e niente noi come al solito ci vediamo nel prossimo video ciao ne